al via la sesta edizione del premio giornalistico estra per lo sport nuova la formula con la raccolta dei servizi pubblicati su radio tv carta stampata web blog da ottobre 2022 a novembre 2023 terza edizione per la call to action dedicata alle associazioni e società sportive di abruzzo marche molise toscana e umbria che sottolineano il ruolo dello sport come strumento di responsabilità sociale e di inclusione candidature entro il 30 ottobre 2023 inaugurato un nuovo store estra ad abadia san salvatore comune sulla miata spazi più ampi e confortevoli nel nuovo store aperto tranne il mercoledì tutti i giorni al mattino e nei pomeriggi di lunedì e venerdì estra è il nuovo title sponsor di pistoia basket il marchio estra entra nell'elite della pallacanestro italiana la società biancorossa è tornata in a e da ottobre sarà impegnata nel massimo campionato il mercoledì